benvenuti o bentornati sul mio canale oggi come mia tradizione vado a infilarmi in un nuovo guaio che si intitola prei non so molto di questo gioco so veramente poco perché comunque è un gioco vecchio quindi ovviamente qualcosina so ma non so nulla della trama non so niente di quello che succede durante il gameplay e quindi sarà tutto in blind l'unica cosa che so è che dovrebbe avere una location credo fantascientifica non lo so magari spaziale visto quello che stiamo vedendo non lo so e le creature credo che non siano nulla di amichevole come al solito gioco su playstation mi lamenterò ovviamente tutto il tempo all'inizio soprattutto ma che durante per carità però all'inizio soprattutto perché non so nulla di come si gioca assolutamente niente e quindi andiamo a c'è da scegliere c'è da scegliere uno dei due a posso ok scegliamo lui dai scegliamo lui ho il nostro appartamento ci svegliamo nel nostro appartamento nell'anno 2032 che non è neanche tanto lontano dall'anno in cui siamo oggi quindi questo non è proprio un futurone vediamo penso che avremo dei poteri da sbloccare non non ho colto molto dal poco che ho visto quindi sono veramente all'oscuro di tutto e mi sa che è per quello che sto giocando sto gioco perché sennò starei lontano mi hanno detto che non è molto facile anche alla versione facile io non amo i giochi che alla versione facile non sono facili però vedremo magari ci divertiamo allora quindi dobbiamo cominciare nel nostro appartamento benissimo 15 marzo noi siamo morgan ok mi piace perché è un nome che si adatta sia ad un uomo che ad una donna quindi l'hanno scelto l'hanno scelto apposta penso a meno che l'altro non abbia un altro ma non credo perché insomma siamo noi arriva un elicottero a prenderci e dobbiamo fare dei test ok apriamo per vedere l'obiettivo che è allora lì abbiamo la salute 100 su 100 autosort quindi avremo un inventario perfetto l'obiettivo è first day on the job quindi il primo giorno di lavoro dobbiamo mettere la nostra uniforme Alex mi ha convinto lo raggiungerò a bordo della Talos è una space station una stazione spaziale il lavoro che faremo che dobbiamo fare è troppo buono per lasciarlo andare per non accettarlo in più ha detto che ha una sorpresa ha una sorpresa Alex che cos'è un parente ok deve andare al training center quindi dobbiamo allenarci prima di andare sullo shuttle quindi penso che sia una sorta di tutorial sì beh aspetta prima di mettermi la prima di mettermi l'uniforme aspetta un attimo che guardo un po' in giro è interessante qua cos'è? e ok qua sarà divertente poi ogni volta cercare di capire come come si usano tutti ah ok soltanto premendo una volta ah inventario nightstand cosa vuol dire il comodino ma seriamente no scusa ma no non andare ah vedi sì allora posso cercare roba ma dai fantastico mettilo qua e io tutto quello che trovo me lo prendo funziona così no? e adesso ce l'ho ce l'ho nell'inventario giusto? fammi vedere l'inventario ma si ma aspetta però oh eh dov'è l'inventario? oh no qua è l'inventario ah 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 fantastico possiamo anche droppare se questi sono tutti i nostri slots siamo abbastanza insomma possiamo portare un bel po' di roba questo questo è filo e questo un tubo di plastica va bene vedremo magari serve a qualcosa qua oh nice vediamo no ma non volevo saltare ah è un problema perché qua i tasti per ah ok ah e posso tirarlo questo servirà wow tiri anche lontano ma già già mi mi preoccupa questa capacità che ha il personaggio ti è allora vediamo qua questo i comandi ci metterò una vita a impararli perché sono abbastanza beh sono abbastanza diversi da quello che uso di solito qua non si può ma c'hai una porta sola scorrevole tutta sta zona qua cosa serve? niente c'è solo l'armadio e solo sto pezzo qui ma dai vabbè ok quindi comodino solo lì c'era roba qua niente e qua neppure fammi fammi ricontrollare niente ok va bene perfetto meno male che si esce dal menu col solito tasto perché sennò farei casini climb che significa ah che posso andare su va bene questo pure posso prenderlo vabbè mettiamo in disordine tutta casa tanto per un po' ce ne andiamo oh ma posso prendere tutto? no non tutto solo quello che sbarluccica beh queste servono io prendo tutta questa roba quant'è? mamma mia va bene adesso guardiamo anche qui ah dobbiamo mettere là Morgan You e Alex You giusto quindi sì era il nostro fratello quello lì quello che ci ha parlato prima eh You è il cognome scusate aspetta aspetta adesso leggiamo voglio prima andare in giro per casa a guardare cosa c'è di bello questa è la tutta che dobbiamo mettere la mettiamo dopo adesso facciamo un primo episodio esplorativo perché alla fine no non lo voglio bere però lo vorrei prendere eh perché magari serve portarsi dietro l'alcol vediamo la nota congratulazioni Morgan Alex è un tipo di poche parole nostro fratello perfetto leggiamo method method sai è un estratto da architetti della rivoluzione neurologica se ti dico che puoi trasformarti in un matematico a livello di Einstein in meno di dieci minuti ma magari questa è la vostra tecnologia ma magari vivessi abbastanza per vederla porca miseria direi che che dice un sacco di balle è il primo pensiero che vi passa che passa per la testa però Alex invece è convinto del contrario quindi nostro fratello fa questi studi per far diventare in meno di dieci minuti una persona un matematico a livello di Einstein quindi gioca col cervello anche questo qua non sta dicendo balle lui forse io no Alex welcome to the age of the neuromod ok allora Alex è quello che si occupa di questo di questo neuromod che deve essere qualcosa che appunto amplia il cervello al punto di farti diventare un matematico anche se non lo sei questo è un beh il colino noi ci siamo svegliati con la voglia di buttare la roba in giro per casa heart of the walk ma walk è quello con cui si cucina eh sì cucinare con un walk può essere sublime quasi una esperienza spirituale ok no è soltanto un'ode al cucinare cucinare col walk sono d'accordo è veramente viene fuori roba buona quando si cucina col walk assolutamente d'accordo ok qui niente qua è una tazzina che potevamo lavare da ieri e invece l'abbiamo lasciata qui qua cosa c'è di di bello aspetta eh prendiamo tutto no cerchiamo assolutamente questo lo portiamo qui ah sì è vero che abbiamo perso la bottiglia questo la mettiamo qua ok non c'è altro carry vedete che dice carry leverage tree quindi dobbiamo anche migliorarci per trasportare cose più pesanti però potremmo anche trasportare cose del genere più avanti e questa cosa mi preoccupa posso continuare a dirlo perché significa che dovremmo fare cose abbastanza complicate allora questo lo prendiamo ormai ci portiamo via tutto da casa non so se ce le fanno portare queste cose però sono anche un po' cretino perché magari adesso che vado a fare il training mi dicono no queste cose qua mica te le puoi portare dietro e vabbè vedremo read ah questa è l'enciclopedia del cibo no della scienza del cibo e della cucina quindi non è che ci interessa molto sì gli enzimi trovati nelle piante negli animali nei batteri gluing chicken skin ah ok ci insegnano a cucinare il salmone coprendolo con la pelle del pollo che evidentemente protegge il salmone in fase di cottura qua avevamo già cercato sì e qua pure sì ok perfetto cos'altro possiamo leggere da queste parti o guardare o curiosare qui c'è un bagno possiamo guardarci allo specchio no non possiamo guardarci allo specchio cerchiamo nel bidone della monnezza ma insomma ma ci siamo abbassati sì possiamo anche camminare in stealth e la cosa non mi piace continuerò a dire sempre tutto ciò che non mi piace delle cose che si scoprono ok qua possiamo tirare l'acqua mi sembra giusto farlo la doccia la facciamo nel caso dopo o la possiamo fare no non lo so non ho voglia di fare la doccia non la facciamo i calzini per terra gli asciugamani per terra va bene se sei contento tu qua oh bello ma scusami ma spegnilo spegnilo che chiudi chiudi l'acqua non si può più chiudere l'acqua una volta che l'accendi non la puoi più spegnere ma dai ma va vabbè ah si spegne cioè quando te ne vai si spegne si chiude va bene d'accordo qua bella televisione però devo dire che assomiglia un po' alla mia quindi niente di tecnologico allora qua c'è qualcosa che possiamo leggere coscienza la coscienza è una materia che rimane misteriosa come può essere spiegato in termini scientifici la mia vita la mia vita la mia vita si ecco qua ci sono domande sulla coscienza come può essere spiegata in termini scientifici effettivamente non è facile questo engineering control systems vediamo no qua niente che possa ho capito cosa c'è scritto ma non saprei riproporlo perché non sono cose che conosco non sono argomenti assolutamente parapsicologia vediamo vediamo metanalisi soggetti dei partecipanti soggetti a una privazione sensoriale per testare la telepatia quindi avremo a che fare anche con la telepatia tipo carri no telepatia no no telepatia che cacchio dico quella è telecinesi la telecinesi già non mi dispiacerebbe perché è un bel potere la telepatia insomma leggere nella mente degli altri non è che me ne freghi granché sinceramente sì un po' interessante sarebbe ma neanche tanta eh sì se continuo però gioca con i videogiochi eh sì cos'è una ma è questa la console bah chi lo sa se è un controller per la console potrebbe essere qualunque cosa qua la domanda di Fermi eh considerate alcune di queste stelle sono dei pianeti come la terra alcuni di questi pianeti possono aver sviluppato vita intelligente certo sperando che con la vita intelligente non voglia farci fuori perché mi sa che è un po' il tema di questo gioco eh e alcune di quella di alcune di quelle vite intelligenti potrebbero aver eh sviluppato il viaggio interstellare se una civile civiltà è iniziata prima della nostra è possibile è probabile che potrebbero aver già colonizzato l'intera galassia e noi siamo arrivati tardi il problema è che non abbiamo trovato nessuna di queste civiltà e nessuna ci ha contattato perché perché facciamo schifo te lo dico io perché nessuno ci ha contattato e questo è il motivo per cui certo che esiste vita al di là della terra non vedo perché dovremmo esistere solo noi ma non ci contattano perché noi facciamo cagare e quindi nessuno vuole avere a che fare con noi basta guardare un po' della nostra storia per essere schifati dalla razza umana e quindi chi vuoi che ci contatti per favore ovviamente nessun alieno verrà mai qui sulla terra ma cosa ci viene a fare Hanson Electronics ok facendo una serie di esperimenti pratici questo manuale vi introdurrà ai fondamenti della elettronica analogica e digitale alla fine di questo manuale sarete in grado di costruire ogni circuito semplice come Thomas Edison una volta detto per inventare hai bisogno di una buona immaginazione e di una pila di immondizia c'è ragione è vero abbiamo buttato aspetta riusciamo a tirarla su questa sì riusciamo a buttarla non tantissimo abbiamo fatto un po' di fatica leggiamo le mail se ci sono no io sbaglierò tante di quelle volte questo cavolo di comando allora vediamo ok le opzioni ci fanno workstations many trans-star employees hanno workstation private molti degli impiegati della trans-star e le stazioni le workstation sono coperte da password quindi dobbiamo cercare prove e usare le nostre abilità di hacker per riuscire a trovare la password o nei dintorni insomma per riuscire a indovinarla le workstations possono contenere email download file da 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 tirar giù e utilities ok ma possiamo andare giù su a vedere no solo così ok perfetto allora premiamo qui ho messo io la password senza senza bisogno di cercarla ok ok è questo qua cioè si è fatto si è congratulato con noi già più di una volta dovrebbe essere nostro fratello quindi sì infatti l'ha mandata a noi ciao morgan sono felice di sapere che verrai a bordo il tuo giorno il primo giorno ufficiale di lavoro è lunedì il 15 marzo ma prima abbiamo una serie di esercizi di training che dobbiamo fare con i nuovi impiegati e sembra roba facile ma chi lo sa fai buon volo ti vedrò ti vedrò presto ok vediamo dunque andiamo indietro no però le altre me le devi far vedere come facevo ad andare questa ho spedito un pacchetto chi è questo sempre Alex con tutto quello di cui avrei bisogno nel primo giorno uniforme transcribe e neuromod che cos'è installa il neuromod subito e faremo dei test come prima cosa nella nella mattinata segui le istruzioni resterò in contatto ready ehi è sempre nostro fratello ho appena finito di parlare con mamma e papà non saranno lì quando lo shuttle partirà perché sono a New York roba della compagnia hanno probabilmente impegni di lavoro ma ti mandano i loro migliori auguri grazie penso che mamma sia un po' disturbata dal fatto che entrambi i suoi ragazzi stanno andando nello spazio nello stesso momento e te credo ma poi visto quello che sicuramente ci succederà perché signora questo è un gioco horror vedremo vedremo se lei può star tranquilla lei dice che ti devi comportare bene e fare tutto quello che ti dice il tuo fratello maggiore a dire la verità ha detto proprio l'opposto sono io che è supposto che mi comporti bene e che faccia quello che tu mi dici e questa è mamma vabbè tutti sono eccitati dall'idea che siamo lì sopra preparati probabilmente ti chiamerò al mattino per essere sicuro che ti sei svegliato e ci vediamo presto va bene quindi ok qua abbiamo zero files e zero utilities mi ricorda un po' un gioco che adesso non mi mette il titolo ma avevo seguito il gameplay si soma e mi sa anche dead space forse dove ti fermavi più volte a leggere cose mentre le creature cercavano di ucciderti e non era divertente quindi mi sa che queste sono le uniche cose che leggeremo e poi non leggerò mai più niente perché avrò troppa paura e ovviamente non riuscirò a fermarmi a leggere ok ci mettiamo la nostra uniforme oh e l'obiettivo l'abbiamo completato dopo un'ora e mezza ok e dobbiamo anche ma non dovevamo metterci anche il neuro coso lì e dove lo trovo ma non l'abbiamo trovato e qua qua c'è l'altra roba che non ho che non ho guardato aspetta aspetta sì ho capito che l'elicottero a 15 metri aspetta un attimo ah beh ma è tutta roba da leggere comunque niente no ok vabbè io però questo neuro coso non l'ho trovato quindi se era parte dell'obiettivo non l'ho vediamo obiettivi e no adesso dobbiamo andare all'elicottero ok e andiamo ah sta salvando sta salvando mi ha detto mi ha detto che sta salvando non so se ho fatto qualcosa io perché magari magari aspettate vediamo se c'è un sistema di salvataggio sì quick save e save game quindi siamo a posto ragazzi è meglio di così non si può allora facciamo che prendiamo l'elicottero e cerchiamo di concludere questo questo primo video con c'è c'è qualcuno lì con magari la nostra partenza con l'elicottero almeno ma io spero che sto pesce non sia vivo perché non si tiene un pesce lì dentro così eh per favore possiamo io mi faccio gli affari degli altri no non si può andare ma rispondi cafone ma sei un cafone veramente eh parla si lo so patricia lo so speravo aspetta 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 che facciamo un po' di prove aspetta no no non saltare mentre sei crauciato cretino l3 per correre quindi come lion no aspetta ho sbagliato ma l3 per correre sì veramente oh wow fantastico aspetta aspetta non ci riuscirò mai ragazzi ve lo dico già adesso così lo sapete non riuscirò mai a correre ah abbiamo anche lo sprint quindi dopo un po' questo si spompa come Sebastian maledetto ma vuoi correre se ti dico di correre corri no no non andiamo d'accordo perché tu non correrai quando ci sarà bisogno di correre sei un deficiente ah ho capito ho sbagliato no sbagliavo io ovviamente come al solito va bene ma se corro e salto cosa succede? ah no 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 ho sbagliato aspetta aspetta oh ok va bene vabbè hello mister you ah mi ha mi ha riconosciuto oh morgan you mi ha riconosciuto my floor oppure l'elicottero a due metri e dobbiamo andare qua ok quindi è tutto molto tecnologico non credo che nel 2032 sarà così da nessuna parte però va bene corriamo visto che adesso abbiamo imparato a farlo vai corri 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 oh da che parte devo prendere l'elicottero non mi non salto ah dovevo salire sulle scale vediamo se ho dimenticato qualcosa qua da guardare no allora posso posso salire da dove salgo da ragazzi da dove salgo da dove si apre l'elicottero ma dai ma ma da dove salgo vabbè c'erano le scale ma io ho saltato qua ah non avevo visto la la porta lo sportello scusa wow questo è la limousine degli elicotteri ma che roba da soli siamo ah no è il pilota meno male ah 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 guardate che c'è scritto bethesta lì ah 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 fantastico wow ah potevo girarmi a guardare no dovevo guardare cosa c'era scritto ma wow ma bene no no sono contenta non sono contenta che si corra non sono contenta che si salti queste sono tutte cose che poi in gioco io non so fare c'era solo la versione easy vero non c'era meno di easy ma si ho capito ma non è che mi devi parlare tutto il tempo chi se ne frega oh che bello i titoli di testa così quindi qui probabilmente c'era anche una una canzone che ovviamente io la musica come al solito ragazzi l'ho tolta perché non mi fido non mi fido più di nulla purtroppo mi spiace perché la musica per me migliora la vita in tutto e per tutto però non voglio essere segnalata in nessun caso anche il minimo e ok siamo qua si pray eccolo qua il titolo nice bene bene molto bene direi il viaggetto l'abbiamo fatto adesso chiudiamo l'episodio perché tutta la fase di training la faremo ma cosa vuol dire mind the glass nel senso che riesco di andare a sbattere contro qualcosa di vetro vediamo mind the glass qua è di vetro no di che ci passo va bene no allora io direi che ci fermiamo qui in questo bel posto ampio e concludiamo qui il primo episodio perché un po' di idee ce le siamo fatte vaghe però ce le siamo fatte nel prossimo episodio facciamo il training quindi anche il prossimo episodio secondo me sarà tranquillissimo cose molto semplici che si finiranno in fretta non succederà niente di brutto e faremo le cose con calma tengo gli episodi come al solito molto brevi perché è più comodo così secondo me sono anche più godibili niente vi lascio vi ringrazio per aver seguito questo primo episodio e ci sentiamo al prossimo ciao Grazie.